buongiorno a tutti oggi mi è arrivato un altro pacchettino anzi in realtà mi è arrivato qualche giorno fa un altro pacchettino da happiness boutique avevo già fatto una review di questo sito ha delle cose veramente bellissime e il sito è questo appunto happiness boutique e adesso vi faccio vedere che cosa mi hanno mandato allora ci sono i soliti consigli della nonna evitare il contatto con i liquidi mettere i gioielli in una scatolina chiusa e rimuoverli quando si va a letto quando si fa la doccia quando si fa sport ogni volta c'è questa immagine che è veramente bellissima penso che la metterò nell'agenda è veramente carissima carissima forerica oh grazie poi allora ci sono questi cosini per proteggerla ed ecco qui le due collane adesso ve le faccio vedere non le ho ancora viste bene nemmeno io le avevo viste solo sul sito allora ho scelto questa che non è esattamente la collana più sobria del mondo ma è fantastica allora il retro è color bronzo è tutta color bronzo con queste pietre nere guardate quanto sono brillantinose sberlucicanti vabbè lasciate perdere i miei termini sono bellissime sono veramente fantastiche vi consiglio di andare sul loro sito perché ogni volta mi stupisco quando mi arrivano le cose di quanto siano fatte bene è un sito europeo non mi ricordo comunque non è cinese stavolta questa è ancora meno sobria ma guardate quanto è bella è fantastica anche questa è color bronzo con le pietre grigio scuro azzurre e bianche sono veramente bellissime niente queste sono appunto le collane che mi hanno mandato mi sembra che costino attorno ai 20 euro l'una non vorrei dire cavolate comunque dopo controllerò sul sito se volete andate a dare un'occhiata perché veramente rendono rendono non penso che questa parola vada bene in questo caso vabbè comunque sono fantastiche le adoro e niente non saprei veramente che altro dire se non che sono veramente belle ogni volta dico sempre la stessa cosa niente andate a controllare il loro sito perché veramente hanno delle cose fantastiche hanno anche collane bracciali no collane le avete viste sì bracciali orecchini eccetera io di solito scelgo le collane perché non lo so sono fissata con le collane anche se alla fine ne metto poco niente io vi saluto ciao